due cucchiai di olio evo modalità manuale cottura normale temperatura elevata fate riscaldare l'olio facciamo rosolare 500 grammi di costine di maiale riscaldare l'olio facciamo rosolare alle costine aggiungo un trito pasto con carota salano e cipolla mezza carota mezza cipolla e una cotta di serma e faccio insaporire verso 30 ml di vino bianco aggiungo un cucchiaino di sale vede faccio evaporare il vino bianco ora vado ad aggiungere 300 grammi di passata di pomodoro regolo di sale aggiungo un goccino saranno 20 ml di acqua arrestiamo la cottura passiamo cottura a pressione tempo 30 minuti adesso vado ad impiattare ecco qui il risultato finale come potete vedere qui c'è una cittura c'è un osso guardate come si è spolpato bene questo pezzetto di carne che ho tolto e niente spero di esservi stata utile come al solito vi chiedo di lasciarmi un like se è la prima volta che capitate qui sul canale iscrivetevi per ricevere le notifiche delle nuove ricette cliccate sulla campanellina quella rossa in basso a destra nell'info box vi trascrivo gli ingredienti e a me adesso non rimane che augurare a tutti quanti voi un buon appetito ciao ciao e alla prossima ricetta